host 2019 ci troviamo lo stand di celli group e siamo in compagnia del suo ceo mauro gallavotti buongiorno mauro e bentornato grazie grazie a tutti voi siamo qua oggi a presentare una novità rivolta al mondo della sostenibilità tutti ci stiamo accorgendo che sempre di più la borraccia ricaricabile sta diventando un oggetto di culto e un oggetto icona dei nostri tempi non solo le nuove generazioni guidate da greta ma anche tutti noi adulti abbiamo sempre più di più nelle nostre borse nostri zaini delle borracce ricaricabili il tema è dove ricarichiamo queste borracce è da qui che celli group ha orientato tutta la sua professionalità e tutta la sua expertise nel mondo professionale dell'erogazione di bevande per mettere a punto un sistema che è questo acqua alma point che è assolutamente una rivoluzione in termini di digitalizzazione del del consumo delle bevande possiamo dire tranquillamente che è veramente molto difficile racchiudere in 300 secondi quella che è la più bella novità di questa fiera biennale mauro parliamo di quello che è stato il vostro studio negli ultimi 4 5 anni io parto se lo vogliamo racchiudere in poche parole dall'esperienza di consumo perché l'esperienza di consumo deve essere molto semplice indipendentemente dalla tecnologia che c'è dietro chiunque da oggi può scaricare sia per ios che per android l'app acqua alma refill può registrarsi mettere il proprio profilo i propri dati biometrici e fissare un target di idratazione giornaliero la borraccia è una borraccia intelligente viene registrata sulla app e quindi viene accoppiata alla persona l'acqua alma point è un erogatore estremamente intelligente riconosce sia la app che la borraccia eroga qualsiasi tipo di acqua fredda a temperatura ambiente gasata o non gasata e soprattutto la può erogare anche con l'addizionata di flavor di sapori o di integratori è quindi un'esperienza di idratazione molto completa molto complessa che inizia sul nostro smartphone che è un oggetto ovviamente quotidiano è chiaro che dietro questo ci sono almeno 5 anni di studio del gruppo celli che ha messo in piedi la più grande e la prima e la più complessa e completa piattaforma cloud dedicata al mondo del beverage l'ha fatto in partnership con grandi multinazionali come microsoft come vodafone per il machine to machine come ptc per la parte di data management abbiamo assunto nel nostro gruppo una cinquantina di ingegneri software development designer di experience e oggi possiamo offrire al mercato un'esperienza digitale alla pari di quella che tutti noi viviamo in tanti altri settori e nei nostri consumi quotidiani io posso dire un piccolo colpo di genio e poi vi accorgerete nei prossimi mesi di cosa sto parlando a chi è destinato questo prodotto Mauro? allora questo prodotto serve per idratare il consumatore in tutti i posti pubblici quindi in qualsiasi tipo di posto di lavoro di ufficio ma anche nelle stazioni negli aeroporti negli ospedali nelle palestre ovunque ci si trovi fuori casa e si ha bisogno di consumare senza dover ricorrere alle bottiglie di plastica che stanno ovviamente inquinando gli ambienti in cui viviamo. Come questo prodotto verrà distribuito? ovviamente il gruppo Celli è un gruppo che fa e produce, disegna e commercializza apparecchiature professionali sarà quindi disponibile a tutti i nostri distributori, centri di assistenza tecnica e di installazione agli operatori vending che gestiscono flotte di vending machine sul territorio alle beverage company e a chiunque altro abbia necessità anche privati, aziende di installare punti di erogazione nei propri spazi e allora in attesa di bere un'acqua riempita nella vostra borraccia, chiamiamola così col suo nome ormai tutti la chiamano borraccia direi di indicare qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi sia dall'altra parte desidera maggiore informazione è tutto ritrovabile sul sito di Acqua Alma bene, allora io nel frattempo ti invito a inserire la bottiglia così mentre voi passate ad altro noi passiamo a un rinfrisco con l'acqua di Acqua Alma acqua trattata bene, grazie Mauro grazie a tutti voi grazie a tutti